...no straccio, ho fortuna e ho l'abbraccio speciale, c'è un uomo geniale che parla con me Tutti il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchetti Tutto il loro, Gustavo e Tanzio, che sputa minaccia e sta figlio con me Ma alla fine mi ha setto papale, mi sbottone e me leggo il giornale Mi consiglio quando raffare, mi spiego e penso a bere un buon caffè Ah, che bello caffè, come l'incarcero sanno fa Ha ricerto che ci c'è un uomo, i compagni di c'è un uomo, i compagni di c'è un uomo Che fanno? Si costerna, si indigni, si impegna, poi getta la spugna con grande inquietà Mi scelpello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde A quell'uomo sceltissimi pezzi, chiede un consenzo a Don Raffaele Un calandolo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli Mentre a stessore che Dio lo perdoni, rientrano l'otto e ci alleva il risotto A cui basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci alleva una croce Grazie a tutti, grazie a tutti, ho voluto il caffè A che bello caffè, pur incarci rosanna fa, a ricerca che c'è un uomo Adaptà da mamma A che bello caffè, pur incarci rosanna f, a ricerca che c'è un uomo Faccia che preciso si! Uiii, madonna mia ma cura di un uomo, ed è un uomo beats, a me piace ma s표 ma ci vedete tu che parliamo così maronna mia ma ci dici queste cose senti, ora ci vuoi in mezzo vieni in mezzo vieni a mezzo metterlo in mezzo sproiettatevi verso le persone sproiettatevi parla un po' è passato a trovare una tarda è capace di coglia vi da sta sentire allora loro fanno una mossa ma la mossa la da fa femmine chiaramente perché poi l'uomo lo fanno buono lo ottenono ma perché l'uomo sa non bastare la femmina sape fare c'è un po' la tarda roccia ma sulla femmina l'uomo c'ha la sua importanza ma ci devi decidere la categoria senti, facciamo una cosa l'uomo fanno una femmina fanno quelli cosi un po' bravo ci margassi un po' la macchina la femmina fanno un po' una bella scolettata e poi si fanno una bella mossa e poi si dice ma non mi fanno vai io non ho messo un copacchistacca un copacchistacca vai quando te la senti qui ci sta l'inflazione e la spala uoi colpeggiatela che stiamo preparando d'acqua e non saranno i copacchistacca i copacchisti e non c'e' ti farò sempre Grazie a tutti.